Ma che stai facendo? Ora metto tutto a posto, va? Ma che hai fatto? Le hai rotte? Una volta! È caduto! Michele, che t'avevo detto? Che ne pensi? Sono a vedere? Che dici? Hai fatto la torta? Ed ora... E passiamo ai lavori dei carini. Che è successo? L'avrei provata per far l'amore